Ciao a tutti ragazzi qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con un nuovo video dei caschi dei piloti Ferrari Oggi ci andiamo ad aprire un'altra perla della Formula 1 e della Ferrari, il casco di Clay Regazzoni Come sempre io vi avevo annunciato sui miei social dell'uscita di questo casco, ve li lascio qui sotto Mi raccomando andate a lasciare un bel follow se volete essere sempre aggiornati sia su quello che esce sul canale Ma soprattutto sulle nuove uscite che arrivano in eticola, perché io vi aggiorno e vi faccio sapere sempre quando arriva una nuova uscita Allora oggi ragazzi miei ci andiamo ad aprire questo bellissimo casco Devo dire anche per questo, esattamente come quello di Lauda ragazzi, mancano le scritte Malboro sulla visiera, sulla parte alta della visiera Quindi dovremmo andare ad aggiungere anche in questo caso le decals Non sono particolarmente grandi, quindi non è particolarmente disturbante la cosa Però sicuramente quando usciranno cercherò di aggiungerle e così ci facciamo anche poi peraltro un altro time to decals Ragazzi miei, ma prima di iniziare questo video io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollice dall'insù E mi raccomando iscrivetevi al canale Inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist dove potete trovare tutti i caschi che abbiamo fatto finora Ho perso il conto di quanti sono, comunque penso che almeno 15-16 dovremmo averli fatti Quindi insomma comincia ad essere una collezione abbastanza corposa Ragazzi dunque spostiamoci sotto ed andiamo ad aprire il casco di Clay Ok ragazzi andiamo ad aprire Come vedete nello sfondo, amici miei, io la 312 B3 del 74 ce l'ho, vedete? Proprio quella di Clay e ragazzoni, quindi sono molto contento di andare a realizzare una bella doppietta Adesso ve la faccio vedere Comunque, peraltro la 312 B3 è tornata molto alla moda in questi ultimi giorni Perché c'è stato il Gran Premio storico a Monte Carlo Dove il nostro Charles Leclerc ha guidato proprio una 312 B3 Però quella di Niki Lauda, va bene? Non quella di Clay e ragazzoni Peraltro ragazzi, me ha avuto anche un problema di freni È andato a sbattere, vi ho lasciato anche un TikTok Insomma, lo potete trovare Dove appunto è andato a sbattere e a rovinare l'ala posteriore Comunque, il prossimo numero sarà il casco del 79 Del grandissimo Jody Schecter Campione del mondo Ragazzi, questo lo prendiamo al 101% E quindi ci rivedremo molto presto con questa serie Allora, qui ci fa vedere le indicazioni, insomma, le cose più importanti Per quanto riguarda il casco di Clay e ragazzoni Come potete vedere, nella propria usanza di quegli anni, almeno su Ferrari Mettere il nome al centro, esattamente come il casco di Niki Lauda E poi le scritte Malboro a destra e a sinistra Che, come vi stavo dicendo all'inizio video, sono assenti Cercheremo di andare a recuperarle Perché le voglio ammettere Allora, una cosa di cui sono curioso di leggere Il marchio della pelletteria toscana Heibner, sponsor del pilota Era applicato su entrambi i lati dell'elmetto Allora, devo ammettere che questa cosa non la sapevo E infatti, insomma, me la sono andata a leggere insieme a voi Qui, come potete vedere, abbiamo la scritta La sua firma, Clay Regazzoni Dopodiché, qui ci fa vedere, ovviamente, un po' Ci dà un po' di informazioni sul pilota Sulla sua macchina Questo, se non sbaglio, ragazzi, è il 75 Insomma, queste prese d'aria a camino Sono proprio tipiche del 75 Anche del 74 In realtà, eccola qua, però era rossa Va bene? Allora, come vi stavo dicendo Guardate un po' che cosa ho Proprio la 312B3 del 74 In realtà, qui è scritto 1975 Perché non credo di sbagliare Se vi dico che quest'auto ha partecipato anche Ai primi Gran Premi del 75 In realtà, però, ragazzi, è assolutamente La B3 del 74 Va bene? Clay Regazzoni 1975 Brasiglia Grand Prix Guardate un po' che spettacolo Come vi dicevo, l'abbiamo potuta proprio Osservare l'azione pochi giorni fa Con Charles Però, come vi stavo raccontando Era quella di Lauda Va bene? Guardate un po' che spettacolo quest'auto Bellissima Allora, andiamo ad aprire Il casco di Clay Clay Regazzoni, ragazzi Interpretato Se non dico cose sbagliate Mi sembra Da Favino Nel film Rush Se non mi ricordo male Mi sembra che Clay Regazzoni Mi ha interpretato proprio All'attore italiano Favino Va bene? Se non l'avete visto Rush, ragazzi Io vi consiglio sempre di vederlo Perché è veramente un filmone Allora, andiamo ad aprire Il casco E andiamo a guardare Le statistiche Allora, Clay Regazzoni È nato in Svizzera Il 5 settembre del 1939 Ed è morto a Fonte Vivo in Italia Il 15 dicembre del 2006 Nella stagione 1974 Partecipò a 15 Gran Premi Vincendone uno E realizzando 7 poti Di cui 4 secondi posti E 2 terzi posti Una pole position 3 giri veloci 52 punti Nella classifica generale Per il secondo posto Quindi, insomma Niente male Va bene? Allora, andiamoci A guardare Questo casco Eccolo qui Clay Regazzoni 1974 Allora, questo è il marchio Come abbiamo appena letto Della pelletteria italiana La sua firma Clay Regazzoni Belle che è ovviamente La marca del casco E qui abbiamo Vedete la scritta Regazzoni Con la croce Svizzera Insomma Appunto A segnalare La sua Nazionalità Gli interni Del casco Sono completamente neri Va bene? Allora, devo dirvi ragazzi Io ho scelto Fra 5 caschi Avevano tutti Un grosso difetto Qui con La plastica sotto Era completamente Staccata Anche questo Un pochino Ce l'ha Vedete? Però quelli che ho lasciato Lo avevano ancora di più Purtroppo Questi caschi Sembra come che in qualità Stiano un po' perdendo Insomma Li fanno sempre più Così Alla bene E meglio E quindi Purtroppo Peraltro Ora che mi ci state facendo pensare Mi ricordo anche di uno Con Aveva tutte bolle Qui sulla parte rossa Insomma Era veramente bruttino Però vedete Difetti Ce ne sono Vedete? Qua c'è questa bollicina Fortunatamente È la parte posteriore Comunque raga Purtroppo Ahimè Questi caschi Secondo me A livello qualitativo Un pochino Si stanno abbassando Poi È vero che noi Quando li andiamo a reinserire All'interno della teca Insomma Mettiamo Tutta la cosa bella Come dobbiamo Poi alla fine Si nasconde E poi raga È vero pure che Poi tutti insieme Sono un vero spettacolo Però Devo ammettere pure Che se li andiamo a guardare Da vicino Nel dettaglio Insomma È un pochino Qualche difettuccio Lo stiamo notando Vabbè ragazzi Dunque Questo era il casco Di Gleire Cazzoni Mi raccomando Fatemi sapere la vostra E dunque Cari ragazzi Anche per questo video È davvero tutto Io come al solito Vi invito ad iscrivervi Al canale Premere sulla campanellina Per stare sempre Aggiornati Su tutte le nuove uscite E se questo video Vi è piaciuto Lasciate un casco Come dico sempre Bello come quello Di Gleire Cazzoni Mi raccomando Fatemi sapere Se questo video Vi è piaciuto Se state continuando Questa collezione E se avete preso Proprio Nello specifico Questo casco Lasciatemi sempre Un commentino Qui sotto Io vi do appuntamento Con il prossimo numero E vi mando Un grosso saluto Ciao ciao Grazie a tutti